Bravo sei, in silenzio radio. In descrizione tutti i miei social, oggi seguitemi perché vi darò una bella notizia sui miei social, poi domani ne parleremo approfonditamente sul mio canale YouTube e poi trovate tutti i vari codici sconto e in controller, se volete fare un controller completamente personalizzato questo è quello che mi sono autoregalato, eneba.com se volete comprarvi giochi nuovi, recuperare i giochi vecchi, comprare i PSN card, i GIF card, già i prezzi sono scontati, in più troverete il mio codice sconto per risparmiare un bel po' di soldini, ma prima di iniziare volevo ricordarvi una cosa molto importante perché me lo state chiedendo in tantissimi, soprattutto su Instagram, ragazzi c'è ancora il bug delle mimetiche all'interno di Vanguard dal The One, quindi al momento non sappiamo quando Sledge Hammer Games risolverà il problema perché mi avete continuato a scrivere amante è stato risolto, amante è stato di questo problema, ma l'ho riportato nei giorni passati, però ad oggi ancora non ho aggiornamenti a riguardo, partiamo con una curiosità perché secondo quanto riportato dall'insider Ralph Vailve, Activision sarebbe in trattative per la produzione di un film su Call of Duty, l'insider Nameless addirittura aggiunge che secondo le sue informazioni Soap McTavish sarà interpretato da Chris Pratt. Mettetevi comodi ragazzi perché vi posso dare in anteprima grazie al dataminer Sebas4412 notizie importantissime in merito a due degli eventi che vivremo in questo mese di novembre, come sappiamo saranno tre, il 18 ci sarà l'operazione Flashback, il 24 l'evento dei segreti del Pacifico e il 30 la fine di Verdansk. Bene, Sebas4412 è riuscito ad estrapolare le schermate di caricamento del gioco, andatevelo a vedere sul mio canale di Twitter perché lo retweetate, come sempre vi dico iscrivetevi anche su Twitter perché ragazzi le riesco a mettere dei leaks, delle cose che ovviamente sui social non posso mostrare, ne posso parlare, però non posso mostrarvi le immagini su Twitter, le vedete direttamente. Da queste schermate però vi posso parlare di come si svolgeranno due di questi eventi. Operazione Flashback che sarà il primo, 18 novembre, e fine di Verdansk 30 novembre, l'evento che porterà poi al cambio di mappa. Partiamo dal primo, Operazione Flashback, l'evento sarà un grande flashback del passato di Verdansk. Ogni cerchio della safe mostra un evento causale che porterà a rivivere diversi momenti principali della storia di Verdansk. Anche i contratti e le casse di rifornimento, come venne riportato dalla schermata di gioco, daranno delle ricompense oggetti del passato. Inoltre, a quanto pare, saranno anche oggetti storici. Fine di Verdansk, invece, sarà veramente bella, ricca e a quanto pare esplosiva perché si parla di cercare gli aerei precipitati per completare i contratti intelligence speciali. Sopravvivi durante il conto alla rovescia per riportare i tuoi alleati in battaglia. Riporta la schermata di gioco, raggiungi la salvezza, ossì l'ultima squadra in vita a vincere e a raccogliere una ricompensa esclusiva. Elimina gli avversari e fuggi dal gas. Guadagna punti per accorciare il conto alla rovescia. Quindi vi ricordo poi che nell'evento fine di Verdansk c'è l'immagine dei bombardieri. Ve l'ho riportata nei giorni passati, sempre tramite appunto questi dataminer che hanno estratto dei file di gioco. Le trovate sempre su Twitter. Ebbene, appunto, ci sarà un vero e proprio bombardamento. Ieri la Sledgehammer Games ha voluto ringraziare in primis la community, soprattutto per il supporto, i feedback, i commenti che hanno aiutato ad alimentare lo sviluppo del gioco appunto in questi mesi. Precisano e soprattutto vogliono ringraziare tutti i team che hanno supportato lo sviluppo del gioco, composti da migliaia di persone che hanno dovuto lavorare da casa in questo periodo di pandemia globale. Infatti ringraziano tutti coloro che hanno lavorato a Vanguard e parliamo della Binox, della Demonware, di Edmund Studios, della Raven, di Activision Shanghai e addirittura della Treyarch. Ieri, ragazzi, è stata anche mostrata un'immagine simulata del logo che appunto sarà quello molto simile di Modern Warfare 2. Vi ricordo che si tratta di un'immagine non ufficiale, ma è una creazione basata sull'X che vi ho riportato nei giorni passati da Tom Anderson. Rimanete sintonizzati perché nei prossimi giorni tornerò a parlarvi di MV2 perché ci sono appunto in ballo tante e nuove informazioni e l'X. Modern Warzone invece ieri sera ha riportato che sul titolo stanno apparendo i primi cheater appunto nelle partite multiplayer. Vi ricordo che l'altro giorno in live ne abbiamo beccato anche uno che sparava attraverso i muri. Non è chiaro per quanto tempo dureranno prima che vengano bannati o se verranno attivamente bannati a dichiarato l'insider. Il problema attualmente non è molto diffuso, inoltre stanno già utilizzando lo strumento sblocca tutto. Ho visto delle mimetiche Atomic e Dark Ether già sbloccate in gioco. Questo era tutto quello che volevo dire il nuovo video informativo e giornaliero sul mondo di Call of Duty. Seguitemi oggi sui social perché ragazzi vi darò un annuncio molto importante alle 11. Poi domani ne parleremo in maniera approfondita qui sul mio canale YouTube. Quindi un bel mi piace, iscrivetevi se siete nuovi e appuntamento con me domani ore 7 qui su YouTube con un nuovo TG Code.